...dall'Albania ed è stata una fortuna per noi perché oggi è Salentino a tutti gli effetti uno dei più grandi musicisti che ci sono in Salento, Re di Asa. Adesso per fare un amaggio la grande tradizione che c'è in Puglia dei cantatori, che stiamo a fare il nome di Matteo Salvatore, ma anche di Enzo del Re, di Mora di Bari, di cui adesso eseguiremo una canzone. E se mi consentite anche di Daniele Durante, questa terra produce delle belle teste che purtroppo vedevano spesso una sola cosa, cioè che chi era povero continuava a diventare sempre più povero e ricchi erano richiesti sempre di più. Ammenazza molto.